Tra l'altro, eh sì, è praticamente esplorabile quella foresta, la Redwood, a parte gli alberi che volano, perché gli alberi volanti incredibili, però molto figa, molto figa. Che cos'è? Cosa? Lai in fondo, sulle montagne. Lai in fondo è una parola un po' vaga. C'è un gorilla. C'è un po' più specifico. C'è un gorilla. Aspetta, forse ho capito. Come c'è la cascata? Aspetta, sì, ma non ce n'è uno solo. C'è uno immenso che si vede occhio nudo da qui. Tipo al centro della catena montuosa che abbiamo davanti. Oh cazzo, è vero. È vero! Guarda, guarda che roba. Mamma che brutto. Aspetta, 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 aspetta. Perché? Cosa? In quale faccia perplessa me lo stai dicendo? Guarda tutto a destra. A parte che c'è una casa volante. Ricordo che siamo in un server non dedicato, quindi privato. E oltre a me e Piera Angela... Guarda che è glicciata male, ma soprattutto che cazzo è? Eh, appunto. Soprattutto che cazzo è? Che è glicciata male probabilmente perché non è renderizzata bene perché siamo lontani. Allora il problema è, uno, come raggiungiamo quel punto? Tutto alla fine come l'hai chiamato, scusa che non ho capito... Ah, pensavo che era un dilo. Non ho capito come l'hai chiamato. Perché Dat Tales? Terodate Tales. Esatto. Disinstallo Ark. La serie finisce qua. Mi è stato un piacere, ragazzi, chiudo il canale, chiudo la serie e rivederci. Allora, sta, sta, sta. Che cazzo? Vola, 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 l'ape maia. C'era, mi sembra un ragno che mi sgagnava le chiappe. Sì, ma però Pio, se mi stai calmissimo, magari... Io sono un attimino scesa da l'avento. È buco, è cavo al massimo. È buco, è buco male. L'hanno bucato, l'hanno forato. Ah, qua, perciò. Guarda che qua ci starebbe una bella casa qua dentro comunque. Tutta in pendenza. Amore, vado un attimo in bagno. Ah, donna. Aspetta un secondo che comincia ad aver freddo. Provo con il signor Pio a scannare il bronto. Ha dato una codata su un timide in acqua. Adesso c'è anche un giro posato che vuole... Venire a pacca a briga. Attenzione, attenzione. Partiamo ad andare un attimino a ripopolare il mio greggio di dinosauri. Sono molto tentato di tamare questo bronto che è proprio in mezzo ai coglioni in una maniera improponibile. Il mio greggio di livello è, no? Eh, no. No, ci guardo subito. Allora, inchia, è un bronto livello 42. È sicuro di voler far sta cattata? Lo sai che io... Io sono un pazzoide e voglio fare le cose... Mano. Merda. Aspetta che faccia tirare... No, 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 no. Tartaruga della merda. A se la prenda con quelli che possono difendersi. Non se la prenda con la gentaglia addormentata. Che cazzo. Sono uscito dall'acqua, sono dove ci sono i... Di qua, un fondo di là. Forca merda. Aspetta che le dico, ne narro, ne narro. È un maschio di livello 5. Non deve essere tanto difficile da buttare. Sì, sì, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Vogliamo fare la doppietta? Io sono 84 sedative. Io ne ho 90 e qualcosa. Però dobbiamo fidare. Fischia. Fatto. Merda, merda, merda. Corri, 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 Cristian, corri, corri. Corri, corri, Cristian, Cristian, corri, 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 corri. Aspetta che sono perito. Eh, a me stava uscendo sangue da sotto Spike. Eh, anche questo qua, anche a me e anche all'altro. Eh, boh, era una perita di quello che... Ahia, 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 ahia. Aspetta, dove vai? Non riesco a capire dove sono, cazzo di Buddha. Mi sei... Ok, ma... Castrato tutto. Aspetta. C'è qualcuno che mi sta mordendo. E la chiameremo Baffi. E la chiameremo Baffi. Perché lei sta precipitando e muore male? Perché queste cose? Sono caduta da 20 centimetri. No, è 20 centimetri il cazzo. È caduta da 23 chilometri. E si chiama Baffi. Questa Pierangela che non ha ancora capito come si scende da Liptero. Soprattutto si scende da quando siamo a terra. Magari della Prime o della carne normale. Aspetteremo quello che c'è da aspettare. Lei sempre trasparente come sempre. Che palle questa qua, Madonna. Che palle! Ho freddo! Ho freddo! Ho freddo! Come ho freddo? Non me la tolgo l'armatura, ho freddo. Non mi tolgo l'armatura, ho freddo. Allora, visto che come solito... Vado, vado, Pierangela. Vado, vado. Lei mi indichi la strada. Eh, sempre dritto. Deve andare verso quell'arca là. In teoria era quell'isoletta felice di Erbivori. Infatti spero proprio che cali lì e non mi cali da altre parti o in mare. Visto che comunque l'isoletta non è molto grande. Ma la mente. Ma cosa succede? Ma cosa succede? L'Opterano Donte nella roccia. Il nuovo film della Disney. È di livello 28. Una roccia di livello 28 abbiamo trovato. Ma come va perché? Ma aspetta che lo libro. Mi fa una pena questo. Mi fa una pena, per favore. Dai, venga fuori da lì. Ma cosa succede? Oh, è uscito, è uscito. Menomale. Eh, non la vedevo. Dopo vede la registrazione. Vada. Io, no, ma l'ha stato pronto. Eh, non ho schiacciato niente. Vengo come trasportatrice e fa cagare, se lo faccio a dire. Ma non c'entro niente io, è il volatile che non collabora. Se lo faccio a dire, lei fa cagare come trasportatrice. Molto bello. Porca troia. Cosa? A livello 125. Auguri. Pensione, arrivo. Auguri. Bene, cominci. Perché hai aperto il paracadute? Non ho aperto. Ho aperto il paracadute? Sì, c'è il paracadute aperto. Ah, ok. Sono già pronto, vada. No, ho sbagliato. A posto di mettere il long neck ho aperto un paracadute, vabbè. Ok. Cominciamo. Vado bene così? No, mai. Eh, non vedo da che direzione vado. No, dove va? No, mi butto giù quel paracadute, va. Sì, ma non vada in acqua magari. Eh, no, io sto cercando di andare di là, ma sta andando in acqua. Aiuto! Mi grabbi al volo, per favore! Mi dia una mano, please! Grabmi, ok. No, sembra che l'avevi schiacciato Bartolino. No, no, l'ho moruto male. Cioè, gli ho sparato tipo così. Come, come, scusi? Così, così, aspetta. Un attimo, mi giro. Così, in questa maniera. Ok, va bene. Arrivederci.